abbiamo rapito l'autista Davide che verrà a farci la foto in Duomo Milano è subito Cocco Ricò, benvenuti, se non tiri sulla mano sei un villano allora la nostra strada è stata a fare cena, a rubare il sushi a tutti quelli che mangiavano con noi fare la foto con Giorgione e Armani fare la foto con il Duomo e far la foto con il Duomo buongiorno amici oggi mi sono preso una pausa dalle registrazioni del disco e vado a cazzeggiare quella allora abbiamo rapito il nome Davide abbiamo rapito Davide per farci la foto di Duomo comunque il Duomo di Milano è sempre bellissimo un po' di quanto tempo che romantico e niente smarca dagli spiriti ton 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 allora abbiamo finito la serata abbiamo fatto la foto con Giorgione e Armani e basta col Duomo col Duomo è vero oggi pauso dalle registrazioni dell'album anche perché le ho quasi finite tutte quindi oggi cazzeggio incredibile mi sento veramente un turista a Milano bellissimo a Milano